Archiviati i primi dieci anni, l'Aquila Film Festival dal 4 ottobre al 22 dicembre cambia le carte in tavola e sperimenta terreni nuovi, inesplorati, forte del sostegno convinto del Comune dell'Aquila che compartecipa all'iniziativa e del Ministero per i beni e le attività culturali e turistiche che vi contribuisce, oltre a numerosi partner. Gli obiettivi dichiarati coerentemente con le edizioni passate restano due, portare qualità grazie al respiro internazionale della propria programmazione e contemporaneamente consolidare le proprie radici nel terreno duro della città dell'Aquila, il tutto con un approccio nuovo anche dal punto di vista del marketing, grazie all'introduzione del biglietto etico per tutti gli spettacoli. Il pubblico sarà invitato a pagare il biglietto soltanto al termine della proiezione, in base a se e quanto abbia approzzato il film proposto. L'undicesima edizione propone pellicole proprie di un grande festival europeo in un palcoscenico di provincia, dilatando i tempi tipici delle grandi kermesse, così da risultare maggiormente fruibile in un contesto di piccole dimensioni. Il festival propone al suo interno i suoi concorsi di opere inedite, cortometraggi, le tradizionali rassegne, le retrospettive dedicate in quest'edizione ai grandi registi italiani Mario Martone e Marco Bellocchio, gli eventi speciali come il Festival del Cinema e del Giornalismo o la prima edizione dell'Aquilan Horror Film Festival. Nella competizione principale saranno proiettati nuovi film in anteprima di grandi maestri come Werner Herzog, Aleksandr Jodorowsky, in gara con autori più giovani quali lo svizzero Tobia Noll. Nel concorso per opere prime e seconde ci saranno anche proposte fresche, come quelle della regista croata Anna Jusic, dell'argentino Robert Bonomo, del bosniaco Denis Stanovic, dell'unico italiano selezionato Alessandro Komodin. Gli incontri con Mario Martone e Marco Bellocchio, ai quali l'Aquila Film Festival dedicherà due retrospettive, apporteranno un ulteriore arricchimento per la manifestazione, riattribuendo all'Aquila il ruolo di salotto cinematografico nazionale, luogo di incontro e confronto con i grandi autori italiani. Per le retrospettive e anche giovani autori a presentare le proprie opere. Un'altra novità è quella del biglietto etico. Proporremo al pubblico l'ingresso gratuito e poi al termine della proiezione chiederemo di valutare la qualità del film visto anche attraverso il biglietto, per cui chi sarà piaciuto il film pagherà il biglietto come riterrà in base alla fruizione che ne avrà avuto e goduto e chi non avrà apprezzato il film potrà anche evitare. Sarà anche un modo per responsabilizzare chi sceglie e chi seleziona il festival. Per cui dal 4 ottobre fino al 16 maggio, presso l'Ovitorium del Parco, ci faremo tantissime proiezioni, ci saranno tante prime e tanti ospiti.